è un piacere sentire il ministro bianchi parlare finalmente un ministro con una visione io ho avuto veramente il piacere di lavorare fianco a fianco a lui quando entrambi con la delega l'istruzione formazione lavoro io in veneto e posso diciamo contare su una continuità e credo che per certi aspetti questo sia anche molto utile quando si deve disegnare una strada quando si deve avere una prospettiva e devi avere anche quella non solo quell'esperienza quella competenza che anche in politica alle volte ha lasciato ha segnato il passo segna il passo grandemente lo vediamo nei tanti errori ecco in bianchi questo questo vuoto non c'è è stato assessore dieci anni in regione Emilia Romagna come ha ben detto lui quando tante volte ci siamo trovati a parlare di un grande nord est e ormai è studiato è studiato esattamente così una volta si pensava e si parlava di Veneto Friuli Venezia Giulia e province le due province autonome con Bozzano sempre ovviamente un po' per conto suo ma con questo con questa continuità certamente da più tempo la l'Emilia Romagna è esattamente parte di questo ragionamento e con lui proprio su DTS ci siamo in tante occasioni trovati a ragionare ragionare perché rispondiamo alle esigenze di un'economia che sta cambiando ma quando tu ascolti il territorio quando tu ascolti le imprese quando il rapporto è a stretto contatto con il mondo del lavoro poi le domande non solo quella che lei così ha posto a me ma le domande plurale che vengono poste dagli operatori dalle associazioni di categoria dal mondo sindacale sono molto sono molto precise e permettono alla politica se non vuole scantonare scusate così termine gergale di essere rispondente ecco avere il ministro Bianchi oggi in questo momento dedicato per l'Italia su questi temi mi conforta moltissimo perché non solo l'avete ascoltato quindi non devo dire qualcosa in più sulla sue competenze sulla sua capacità ma è un uomo di grande onestà intellettuale e di grande e di grande lucidità quindi io lo vedo con con una con grande conforto una bella soddisfazione mi fa piacere che abbia parlato di cosa veneto mi è piaciuto quando ha detto adesso l'ho ascoltato con attenzione ho preso appunti il pilastro a cui collegare altre esperienze proprio perché l'Italia è così diversificata la taglia unica non funziona non ha mai funzionato in veneto ce lo diciamo da tempo è il caso che questo dirlo non sembri una sempre una sorta di provocazione o anche sia letto come un'arroganza ma noi dobbiamo dire l'Italia è molto diversificata per poter per poter essere efficienti le politiche pubbliche devono avere un quadro di riferimento nazionale in particolare su alcune cose ma poi bisogna lasciare libertà vorrei dire un po' più di autonomia ai territori il nostro di sicuro ha saputo in punto di ITS cioè costruendo questa offerta questa offerta di alta formazione fin da subito avrei le idee chiare io con questa premessa non ho dimenticato e non voglio dimenticare di ringraziare con partigianato perché tra il primissimo incontro che abbiamo fatto con il presidente Boschetto nel suo insediamento accompagnato dai suoi dirigenti proprio sugli ITS lui ha voluto soffermarsi e io ho apprezzato molto questo tipo di scelta perché la nostra capacità di leggere il territorio deve essere anche legata come questo tipo di offerta di alta formazione specialistica debba avere tutta la filiera di produzione al suo interno e se è vero che il merito di avere creduto molti anni fa prima ho sentito anche Gianluca Vigna io mi scuso ma sono saltata di qua e di là su due piattaforme perché nello stesso momento al Ministero dello Sviluppo Economico ho l'avvertenza forse quella qui tengo di più mi perdoneranno gli altri ma il sindacato lo sa che è quella di ACC è stata una riunione che è finita ora però insomma saltavo di qua e di là tentando di sentire con una però con grande interesse questo convegno non ho perso nessun intervento quindi cercherò veramente di esprimere in breve tempo che cosa qual è la prospettiva che dovremmo avere convigne si ricordava che il 2008 lui era il presidente dei giovani della Confindustria si muovevano i primi passi degli ETS la Confindustria è stata tra i primi a crederci e ancora ci crede ma noi abbiamo bisogno che il mondo dell'artigianato ci creda altrettanto e appunto con il presidente Boschetto questa cosa l'abbiamo detta da subito peraltro il loro il vostro direttore direttore regionale a margine di quell'incontro ha anche voluto fare il punto no come dire riprendiamo da qui perché perché dobbiamo caratterizzare questo nostro percorso il mio di una nuova legislatura ancorché vecchia del gruppo in un momento così delicato covid che ha cambiato il paradigma del mondo perché molte cose sono tutte da ripensare compresa una filiera corta compresa il rientro di parte di produzioni che sono fondamentali sul tavolo di ACC di questo si sta parlando di come poter riallacciare i legami con il resto del mondo che guarda noi sempre con grande attenzione perché su alcuni settori penso il turismo noi dobbiamo ripensare anche che tipo di offerta ma per fare questo abbiamo bisogno di quello che Bianchi ha definito esattamente quelle figure centrali che non sono sostituibili e che oggi diventano una cerniera di grande innovazione che però deve trovare il suo ruolo anche e le sue caratteristiche formative. Allora la storia degli ITS del Veneto è una storia che oggi dà risultati straordinari ma anche nel mio mandato detto a Boschetto dobbiamo darci dei nuovi stimoli io vorrei il raddoppio dei corsi ITS non il raddoppio delle fondazioni le fondazioni abbiamo deciso fin da subito e con questo anche di intesa con il ministero che dovessero essere quelle delle aree tecnologiche che ci dovessero essere tutte le aree tecnologiche coperte e noi le abbiamo salvo l'ultima costituenda ma il professor Tughiero è già molto ingaggiato in questo che è quella delle comunicazioni dell'ICT quindi comunicazioni tecnologiche e dell'innovazione ma le fondazioni devono fungere da diciamo da grande gruppo di relazioni di guida di coordinamento mentre vanno raddoppiati i corsi perché la forza degli ITS è proprio quella di essere molto flessibile nell'offerta e quindi ogni anno nel biennio si possono aggiustare le richieste si possono costruire corsi e percorsi diversi innovativi rispondenti alle esigenze specifiche di quelle aziende di quell'azienda di quel gruppo di aziende il secondo punto è quello che oggi sempre di più le competenze vanno ibridate è un termine anche a me che non anche a me non piace moltissimo però da tempo c'è da quando abbiamo anche istituito l'osservatorio delle delle nuove professioni e quindi dei lavori ibridi li avevamo già chiamati così quattro anni fa presso l'università di Padova col professor Gubitta ci eravamo molto interrogati e la figura più diciamo l'esempio più facile da comprendere era oggi un artigiano che fa lavorazioni artistiche del legno deve sapere di digitalizzazione di marketing di comunicazione di logistica perché oggi parla nel mondo perché la sua la sua opera può arrivare ovunque attraverso le reti che sono banalmente questa che oggi mi ha permesso di essere senza essere Santa Caterina essere in due posti nello stesso momento e quindi noi già avevamo ragionato di questo quattro anni fa con il ragionamento di come riuscire a raccogliere i bisogni formativi delle nostre imprese e quindi dopo che riteniamo che le fondazioni vadano potenziate e l'appello che vi siete fatti ci siamo fatti è quello di coinvolgere il maggior numero di imprese se possibile in una conversazione bella tosta con Nario Dalla Vecchia qui non fa difetto la diciamo la sincerità lo dico così e richiamata al fatto che io fossi troppo spinta verso la confindustria quello di Covignia lo faccio ridere io ho detto ho detto assolutamente Nario no non è vero io credo che invece il ruolo della confartigianato e oggi si dimostra sia proprio quello di avere la visione di comprendere che i bisogni delle mie delle vostre imprese che stanno crescendo proprio come posizionamento ma non interessa la grandezza dell'impresa credo che a tutti noi interessa il posizionamento dentro una filiera oggi molto complessa sia quello di avere e voi ci siete già di fatto però molte come associazioni categoria ci siete di sicuro ma molte più imprese allora se ognuno deve avere il proprio ruolo e poi arrivo anche a quello del sindacato di cui ho apprezzato ovviamente gli interventi ma conosco entrambi i segretari e so quali sono le loro anche la loro capacità di ragionare sul mondo del lavoro che cambiano sindacato Veneto non è un sindacato da resistenza permettete lo dico sottovoce visto che siamo vicino 25 ma è un sindacato invece di grande promozione di grande voglia di guidare il cambiamento non solamente di subirlo allora dicevo abbiamo bisogno di diffondere la l'informazione di quanto questi ts siano esattamente rispondenti alle esigenze dell'impresa quante volte sapete che io sono una che gira abbastanza per le imprese quante volte mi sento dire ho bisogno di questo e la scuola non me lo dà ho bisogno di questo l'università non me lo dà me li preparano per fare una cosa ho bisogno di un'altra allora la l'its è esattamente la risposta a tutto questo una risposta costruita per essere molto flessibile molto adattabile alle richieste molto spinta dentro le imprese ricordiamoci che il 40 per cento delle delle ore va fatto in imprese ricordiamoci che il 25 per cento si fa tra laboratorio e ricerca non esiste un altro percorso di questo genere qua e anche quando si si dice e credo che l'abbia detto non ricordo se Re Fosco o Christian Ferrari ma che va enfatizzato il tema del duale io credo che sia esattamente questa la risposta con duale però lo dico sorridendo perché sarà un argomento delle prossime ore poi si deve anche comprendere che quando si tratta di duale anche il governo deve rispondere esattamente con coerenza non sto parlando ovviamente del ministro Bianchi perché se noi vogliamo che l'alternanza scuola lavoro sia al di là del progetto delle scuole superiori ma sia un metodo che noi spingiamo molto di più e che poi possa portare le aziende a credere che il contratto principe come si diceva come hanno detto sia i due i due segretari generali il contratto dell'apprendistato sia il contratto principe per entrare nel mondo lavoro per i giovani perché questo dovrebbe essere e quindi con un apprendistato di terzo livello che fino ad oggi pur essendo nell'ordinamento è stato debolissimo i numeri in Veneto sono bassissimi e potrebbe riguardare l'università potrebbe riguardare riguardare l'ITS cioè il conseguimento di un titolo di formazione terziaria nelle imprese ma no le nostre imprese devono saperlo e spesso non lo sanno ma non è colpa loro e devono anche essere consapevoli che questo non è una forzatura ma è una grande opportunità. Dicevo sulla discussione che ha avuto con Nerio sono le imprese poi che stanno dentro le stanno dentro le fondazioni e stanno dentro la costruzione dei percorsi per quello dell'associazione di categoria in questo caso è fondamentale è quello di di far crescere culturalmente una mentalità una conoscenza e anche una convenzione. Allora noi oggi abbiamo in Veneto 55 corsi finanziati nel 2020 nel 2019 erano 46 e siamo partiti con 18 quindi la crescita è stata così. Obiettivo del mio mandato come vi ho detto è il raddoppio dei corsi sono molto certa che il ministro Bianchi darà seguito con coerenza le cose che ha detto qui ma che ha detto in diverse occasioni anche per quanto riguarda il piano nazionale di ripartenza perché questo è veramente un ottimo modo per far crescere le imprese anche nella sua testimonianza Nerio Dallavecchia ha detto come la sua azienda avendo un ragazzo giovane entrato poi per osmosi per contaminazione abbia deciso di investire in formazione perché anche gli altri lavoratori trovano stimolo ad avere una giovane così formato con queste competenze trasversali con questa contaminazione con questa ibridazione per poi crescere in continuità. Allora la cosa che per la quale noi dobbiamo diciamo guardare con alcuni problemi che restano sul tavolo sono il primo quello di una reputazione no ci abbiamo detto voi avete come diciamo abbiamo ciascuno di noi ha dei ruoli nella nell'azienda nella confrattigianato ci sarà il ruolo di riuscire a far conoscere di più alle proprie imprese nel sindacato il ruolo di farlo in termini di sensibilizzazione dei lavoratori e quindi delle famiglie però sapete chi ha il convitato di pietra sono le scuole chi aiuta nell'orientamento principalmente sono gli insegnanti gli insegnanti che ti accompagnano per cinque anni in un percorso di istruzione secondaria di secondo grado e quando in uno dei protocolli che abbiamo siglato perché in veneto siamo anche bravi a siglarli tutti insieme i protocolli e non è sempre così nelle altre regioni quando vi ricorderete abbiamo spinto molto sull'alternanza scuola lavoro nel momento in cui il governo era il primo il primo governo conte aveva cambiato per una secondo me sciocca posizione ideologica l'alternanza scuola lavoro in ptc o riducendo anche le ore in veneto abbiamo fatto una cosa diversa tutti i sindacati datoriali tutto il mondo invece convintamente no noi vogliamo una alternanza scuola lavoro rafforzata non ridotta e avevamo anche previsto di avere l'alternanza scuola lavoro per i docenti ebbene 95.068 docenti in tutto il veneto 35 hanno aderito a questo protocollo mi par pochetto allora cosa vuol dire vuol dire che dobbiamo sensibilizzarli di più dobbiamo accompagnarli di più dentro le nostre aziende noi sappiamo perfettamente che dentro le scuole c'è l'insegnante attento al contesto al territorio e magari più sensibile che viene con noi a costruire il percorso dell'alternanza scuola lavoro ma se quegli insegnanti non sono convinti che l'its sia una cosa molto buona e molto giusta non lo suggerirà accanto alle famiglie però vi dico vi dico un'altra cosa anche se i nostri percorsi danno il 90 per cento a un anno 90 per cento di media è a un anno dal conseguimento del titolo sono occupati coerentemente cioè quel percorso che hanno fatto è anche quello che va ad occupare le persone beh non serve oggi non serve oggi dire che non serve oggi dire che che danno occupabilità ora magari nel 2019 era più le famiglie interessava meno spero che questa volta si rendano conto che il mondo sta cambiando e che c'è e che c'è oggettivamente un problema anche di lavoro però anche quel messaggio lì non era sufficiente il dottor menina adesso mi ha appena scritto dottor menina il nostro deus ex machina del dell'its mi ha scritto l'anno scorso nonostante il nostro sforzo finanziario quattro corsi non sono partiti sono mancati gli iscritti allora famiglie e insegnanti devono essere ingaggiati insieme alle imprese evidentemente e ognuno di noi deve dare questo tipo di messaggio nei luoghi e dove si può sono molto convinta e chiudo del tema dell'identità che il ministro bianchi ha posto l'identità di questi percorsi potrebbe essere quello che ci aiuti ci aiuta anche nella reputazione ci aiuta nella reputazione perché i risultati ci sono tutti abbiamo percorsi che hanno veramente contenuti formativi eccezionali le migliori imprese in veneto si rapportano con l'its non sto a elencarvi i successi guardate che nei sistemi di valutazione nazionali i nostri ts sono primi di categoria ci hanno fatto ovviamente le categorie per aree tecnologiche il turismo e l'ast quindi quello sulla logistica la meccatronica non voglio dimenticarne la moda sono primi nella loro categoria addirittura quello della bioedilizia dell'edilizia di costruzione energetica ha fatto primo e secondo posto nazionale e dentro i primi dieci il veneto ne ha sempre quattro mai andati sotto i tre le altre regioni ne hanno uno ecco perché bianchi parla anche ed è bellissimo che lo abbia detto di una diciamo caso veneto quindi i risultati ci sono in termini di qualità di aziende i nomi delle aziende che aderiscono ai vts sono meravigliosi abbiamo facciamo cose innovative prima refosco ha citato l'ultimo che faremo nascere tra gli ultimi perché sta nascendo anche quello sul turismo termale ad abano nasce quello del manager sulla sostenibilità nella moda nel 2020 c'è stato il premio formazione europeo e l'abbiamo vinto noi l'ha vinto il veneto con il green leather manager che è il manager della lavorazione della pelle del settore della concia quindi i nostri risultati le nostre qualità sono strepitosi come lo comunichiamo come facciamo un migliore orientamento abbiamo investito in molte cose io sono convinta che sulle scuole superiori si debba fare di più e questo lo compete principalmente alla regione e all'ufficio scolastico regionale e che insieme ciascuno nei nostri nei nostri ruoli con i nostri soggetti di riferimento dovremmo riuscire a farlo per sensibilizzare più ancora le imprese e ancora di più le famiglie io voglio veramente ringraziare la confartigianato e anche l'amico giorgio santini che mi aveva subito chiamata a partecipare a questo incontro possiamo veramente anche trattare di questi diversi corsi perché oggi abbiamo fatto un ragionamento complessivo dove vogliamo andare vogliamo andare al potenziamento degli ITS come vogliamo farlo lo vogliamo fare insieme l'orizzonte è quello di una peculiarità molto veneta ma di una rete nazionale io apprezzo molto per esempio il lavoro che si sta facendo e che sta facendo Confindustria e Bastianello sul sistema moda nazionale ma ancora più apprezzo le esigenze che arrivano dal territorio a Valdagno la settimana scorsa siamo andati dentro la Marzotto ma c'era la Confartigianato con Stenta e con Paolo e dall'altra parte e con Luca scusate e dall'altra parte c'era il mondo della Confindustria noi dobbiamo assolutamente essere convinti che questo tipo di percorso possa essere uno spazio futuro che però già oggi ha delle basi solidissime ultimo ragionamento lo faccio sull'università neanche un ragionamento è uno è uno così è uno spot Sì Assessore poi l'invito un po' a chiudere perché siamo al limite è molto interessante Ho chiuso perché i protocolli con le università si stanno siglando e questo è un modo per dire anche in termini di reputazione che i crediti che verranno riconosciuti daranno anche una prospettiva per questi giovani Allora 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 Allora